I ragazzi hanno un grande, grandissimo senso di responsabilità. Rientro tutto sommato tranquillo all'Istituto Comprensivo 1 di Via Einaudi a Pescara. Al primo suono della campanella, dopo le festività natalizie, non si sono riscontrate particolari difficoltà. Anche se l'attenzione per l'aumento dei casi Covid-19 in città tiene alta la barra dell'attenzione. Il governo è forte nel nuovo decreto anti-Covid, mentre la comunità scientifica prevede il ritorno di tutto il sistema INDAD nel giro di poco tempo. Noi, a seconda dell'ordine di scuola, dobbiamo mettere in quarantena le classi se si verificheranno dei casi all'interno del contesto scolastico. Noi dirigenti scolastici non credo che abbiamo delle competenze sanitarie tali da poter fare così delle valutazioni. Questa è la normativa. Noi applicheremo questa normativa sperando che chi ha partorito queste misure abbia indovinato. Preoccupa invece la situazione nel liceo classico. In mattinata già diverse le richieste di attivazione per la didattica a distanza, mentre la positività di alcuni docenti ha lasciato scoperte intere classi. La preside Antonella San Vitale. L'assenza dei docenti è problematica per l'organizzazione e l'abbiamo rilevato solo da questa mattina, perché oggi si tornava in servizio pieno. Faccio un appello proprio che dobbiamo unire le forze, tantissime le forze di tutte le realtà che hanno la responsabilità sulla sicurezza per garantire la scuola in presenza. Altrimenti da sola la scuola non ce la fa, anche perché, vi ripeto, l'ordinamento ci impone che prima di dieci giorni non possiamo chiamare supplente. La difficoltà per i medici la fanno di fare i certificati, di prevedere il periodo, per cui stamattina alcune classi erano scoperte. Per cui è fuori discussione che la scuola è in presenza, ma dobbiamo unire tantissime forze in modo sinergico per permettere che la scuola continui a essere un servizio efficiente in presenza.